In tanti affollano la tenda del Rotary per la giornata di prevenzione dell'ipertensione arteriosa e dei rischi conseguenziali organizzata dal club in collaborazione con il comune di Agrigento. Quanto è importante questa iniziativa per i cittadini? Il secondo incontro per quanto riguarda il programma itinerante di prevenzione, cioè l'incontro della città con l'esperto, vi devo dire che sono effettivamente soddisfatto perché abbiamo iniziato alle 9.30 e la gente continua ad affollare la nostra tenda. Penso che questa iniziativa è molto apprezzata dagli agrigentini, l'abbiamo visto la volta scorsa per quanto riguarda la scuola Garibaldi, lo sto vedendo ora per quanto riguarda la prevenzione dell'ipertensione arteriosa. Abbiamo già scoperto due casi su 15 persone che abbiamo visitato e che hanno problemi di ipertensione arteriosa senza che l'hanno saputo. Abbiamo partecipato a questa iniziativa donando la nostra tenda Rotary che è gestita ottimamente dalle sue ore e porte aperte, ma noi poi la vogliamo utilizzare per tutte le iniziative a vantaggio della cittadinanza, tra l'altro è un luogo centrale e poi domani parteciperemo, anche collaboreremo alla festa dei nonni organizzata al comune di Agrigento. Siamo presenti con l'ambulanza, con i nostri volontari e con le nostre croce rossine che hanno il compito di occuparsi della prevenzione della glicemia. Questa giornata è una giornata stupenda che veramente il dottore Gramaglia e il comune insieme alla Rotary hanno organizzato e sono delle giornate che anche noi come Croce Rossa facciamo regolarmente nei vari paesi e nella nostra realtà anche da Agrigento.